Buongiorno da Telpress Italia. Primo piano, nota stampa di sabato 14 maggio. Droni, fregate e carri armati. La lista UE per le spese militari, riporta la stampa insieme ad altri quotidiani. Il dossier della Commissione per potenziare gli investimenti nella difesa. Con il ritorno della guerra nel nostro contingente è urgente proteggerci, riporta l'articolo. Sulla Repubblica la polemica sul caso molestie degli alpini. Alpini e molestie, tensione nel PD, dimissioni a Rimini, passo indietro della dirigente locale che aveva sminuito Borghi. Ma non chiediamo la sospensione delle adunate. Il caso delle violenze diventa scontro politico con la Lega che difende gli alpini e le prossime adunate. I leghisti attaccano il PD però solidarizzando con la riminese consigliera regionale di parità. Tra i dem e in particolare tra le donne, la lite si è trasformata in una testa coda che il segretario del PD Enrico Letta non ha apprezzato per nulla. Per ora nessun chiarimento. Il tema anche sulla stampa, il giornale ed altre testate. Sul fatto, l'intervista al generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, il generale Tricarico non nasconde di essere preoccupato per l'imminente adesione di Finlandia e Svezia alla Nato. Non solo perché non ci sono motivi militari che rendano urgente l'allargamento dell'alleanza, ma anche perché questi nuovi ingressi potrebbero destabilizzare in Nord Europa. E sulla stampa, l'intervista all'ex capo di Stato Maggiore Giorgio Battisti. Helsinki e Soccolma hanno eserciti già pronti, dice. Sono forze armate immediatamente integrabili. E sui dubbi della Turchia, aggiunge, li ebbero anche con la Grecia, ma ci convivono. La cyberguerra che ci riguarda, scrive il Corriere, da quando accecarono un satellite commerciale l'offensiva cibernetica russa contro l'Italia, è arrivata a mettere nel mirino anche l'esercito, scrive Verderami. I primi episodi a febbraio, ma i tentativi ci sono tutti i giorni. Nel mirino degli hacker anche le infrastrutture militari. Ad aprile, gli attacchi su alcune strutture della difesa all'estero. Così sale di livello la cyberguerra russa agli obiettivi italiani. Anche su avvenire, Cybersecurity per l'Agenzia all'Italia ha 71 vulnerabilità. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha pubblicato una lista di vulnerabilità che potrebbero aprire la strada a possibili attacchi di hacker russi. Quelli avvenuti mercoledì scorso, che hanno mandato in tilt siti del Senato, del Ministero della Difesa e dell'Istituto Superiore di Sanità, senza però aver intaccato l'integrità dei sistemi, potrebbero preludere ad una campagna offensiva di livello più alto. È libero, attacca. Gli eserciti europei fanno pena, per fortuna ci difendono gli Stati Uniti. Meno male che c'è la Nato, meno male che c'è di mezzo l'Ucraina che ha mostrato tutta questa insospettabile capacità di resistenza. Se no, l'esercito di Putin si farebbe dell'Unione Europea un solo boccone, per quanto le sue forze armate sono messe male. Lo ammette la stessa Commissione Europea, in un rapporto che denuncia gli effetti negativi di decenni di basse spese per la difesa. E su avvenire all'URD, 14.000 soldati pellegrini dall'Europa. Vi do la mia pace, è il titolo del 62esimo pellegrinaggio militare internazionale all'URD, cominciato giovedì sera con la recita del Rosario. E per i temi esteri, l'Algeria è un partner affidabile, ma l'Europa deve investire, scrive il messaggero. Offerta di Arqab, ministro dell'energia, contribuiremo alla sicurezza dell'Unione. Algeri si candida a produrre ed esportare idrogeno blu anche in tutti i paesi europei. La delegazione algerina, arrivata a Sorrento, telefonata a Washington Mosca, il Pentagono subito tregua, riportano la Repubblica ed altri. È il giorno in cui si riannodano i fili. Fabreccia l'appello di Draghi per riattivare una linea con Putin. Dopo l'intervento senza annunci militareschi di Putin, dopo l'incontro tra il premier Draghi e il presidente Biden a Washington, e la telefonata tra il leader cinese Xi Jinping e il capo dell'Eliseo Macron, qualcosa sembra muoversi sul fronte diplomatico. È la prima chiamata ufficiale dall'inizio del conflitto in Ucraina. Intervista all'ex sottosegretario alla difesa statunitense Lawrence Korb. Se il Cremlino ha risposto, vuol dire che cerca la soluzione. Spetterà Zelensky sedersi poi al tavolo e decidere di rinunciare a qualcosa. Jan Bransink, ex sottosegretario alla difesa americana alla stampa, dice che il problema resta Putin, non dialoga con nessuno. Vuole una guerra lunga, ma muove sanzioni e l'invio di altri armi saranno determinanti. Bruxelles congela il petrolio per sbloccare l'accordo sulle sanzioni contro Mosca, scrive il messaggero. L'opzione è radicale, ammettere l'impotenza della UE e congelare l'embargo al petrolio per superare l'impasso sul sesto pacchetto di sanzioni. Droni, fregate e carri armati, la lista UE per le spese militari, riportano la stampa e il messaggero. Dossiede la Commissione per potenziare gli investimenti nella difesa. Con il ritorno della guerra nel nostro continente è urgente proteggerci. Gli stati membri aumenteranno i loro bilanci di 200 miliardi di euro. L'intelligenza ucraina, colpo di Stato in corso, Putin ha un cancro grave, riporta la stampa. In Russia è in corso un colpo di Stato per rimuovere Putin, che è gravemente malato di cancro. A lanciare la notizia il capo dell'intelligenza dell'Ucraina. Sei stop di Erdogan a Svezia e Finlandia. Ospitano i kurdi, niente nato per loro, scrivono la Repubblica e tutte le testate. I paesi scandinavi sono un rifugio dei terroristi, ma Ankara non ha ancora preso una posizione formale. E anche Giorgetti frena. L'allargamento non aiuta, scrivono la Repubblica e la stampa. Così non si abbrevia il conflitto. Credo che questo surriscaldi gli animi dalle parti di Mosca, ha aggiunto il titolare dello sviluppo economico. Però sono questioni forse troppo grandi per la mia capacità di valutazione, ha concluso il ministro. E il G7 alla guerra del cibo per salvare il grano di Kiev, scrive la stampa. Le forniture ucraine sono bloccate. Kuleba c'è il rischio di una crisi sistemica. Infine, Kharkiv liberata. I russi si spostano sul fronte del Donbass. Ma la pace è lontana, riportano la Repubblica e tutti. La vita è ancora sospesa ad un filo. E per i temi economici. L'appello di Draghi dal forum verso sud. Basta pigri pregiudizi. Sud centrale nella strategia del gas sarà l'hub dell'energia, riportano il Corriere tutte le testate. Il Premier rilancia l'agenda per il Mezzogiorno. Procedere veloci con le riforme per non perdere finanziamenti UE. Il Sud deve essere protagonista. Il Mezzogiorno ha tutto il potenziale per convergere verso il centro nord. Ma serve rafforzare anche la capacità amministrativa. E aggiunge, sull'energia, il modello da seguire è l'accordo con l'Algeria. Ma dobbiamo lavorare a stabilizzare il Mediterraneo. Draghi contro i pregiudizi del Sud, scrive il giornale in prima. Ma è stato rovinato dallo statalismo. E la ministra Mara Carfagna sul messaggero parla di stagione di rinascita per il Sud. Siamo qui per marcare l'inizio di una nuova stagione, ha detto, iniziata nel 2021 con le risorse dell'UE. Serra sulla Repubblica analizza l'invito del Premier al Sud. Un'emozione molto forte, scrive. Il capo del governo che rilancia il Mezzogiorno è in Italia ciò che a Londra è il cambio della guardia. Una tradizione amatissima. Continueremo a rilanciare il Mezzogiorno per secoli. L'importante è che il rito non si perda. Nel frattempo il Mezzogiorno si sarà rilanciato da solo. Lavoro, 3 milioni di dimenticati, segnala la stampa. Secondo l'Eurostat, l'11% degli occupabili non ha un posto. Lo vorrebbe, ma non lo cerca nemmeno. È il dato peggiore d'Europa. È il popolo degli sfiduciati, tra chi fatica a collocarsi e chi deve badare ai figli o assistere un anziano. E l'inda Laura Sabbadini sulla Repubblica parla di madri che chiedono garanzie, sostenendo la tesi del presidente Mattarella. Non è il lavoro ad allontanare dalla maternità, bensì le carenze a supporto della stessa. L'eco compenso, il provvedimento contestato sul messaggero, nonostante l'approvazione alla Camera, quello sull'eco compenso dei liberi professionisti, è un caso ormai sul punto di esplodere. Crescono infatti i contrari tra PD e associazioni. Dubbi di Italia Viva e 5 Stelle. Secondo le categorie, in questo modo, chi si iscrive all'ordine verrebbe sfavorito. Tra i più penalizzati, i giovani professionisti, che stanno avviandosi legittimamente alla libera professione. E dopo giorni di attesa, lunedì, andrà sulla gazzetta ufficiale il testo del decreto aiuti. Riporta il sole. Tra le novità di rilievo, la deroga al codice degli appalti con l'esenzione per la via. Intanto scatta la corsa agli incentivi auto fino a 5.000 euro sulla Repubblica e tutti i quotidiani. Da lunedì, con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto, bonus per l'acquisto di auto e moto per il 2022, oltre a 2023-2024, e scatta la garanzia di aver diritto allo sconto. Si parte da 2.000 euro per i motori benzina e diesel tradizionali. UE, piano per l'indipendenza da Mosca. Il PNRR cambia e apre a gas e petrolio, scrivono il Corriere ed altre testate. Mercoledì, la Commissione presenta Repower EU, la revisione delle linee guida del recovery, una roadmap per raggiungere l'indipendenza dalle fonti fossili russe entro il 2027. E per la politica, ancora in evidenza il tema dell'invio di armi in Ucraina. Conte insiste, no ad altre armi. Letta avverte, si pesino le parole, scrivono il Corriere, la Repubblica e tutte le testate. Il leader del Movimento 5 Stelle non voglio creare problemi all'esecutivo. Nel Movimento c'è chi ipotizza il voto in autunno. Giorgetti, i nuovi paesi nella Nato non abbreviano la guerra. Da Conte un nuovo avviso al PD, riporta la stampa, pronti a seguire la nostra strada. Col PD c'è un dialogo privilegiato, ma basta farci scordare i nostri valori. In gazzetta ufficiale, il terzo decreto sull'invio all'Ucraina di materiale bellico più pesante. Il vicepresidente 5 Stelle turco dice, valutiamo il voto in Parlamento, riporta la Repubblica. E secondo Boccia, intervistato dalla stampa, solo in coalizione con i grillini possiamo battere la destra. Incosciente o in mala fede chi pensa di andare soli. Voto a ottobre, Parlamento da rinnovare, ma il governo va sostenuto. Il leader della Lega Salvini al Corriere dice, il nostro paese ha l'autorevolezza per promuovere un'iniziativa che spinga il negoziato. Non siamo scettici sull'Europa, ma i trattati vanno rivisti. Gli italiani e gli europei vogliono la pace. E aggiunge, io, elemento di stabilità, con il Premier stiamo trovando una buona sintesi su diversi argomenti. Roma, lavori per la pace con Parigi e Berlino. Salvini e la sfida Meloni in venti tappe, il caso del mancato invito a Fedriga sulla Repubblica. La Lega prova l'operazione rimonta, crollata nei sondaggi e in cerca di identità, cerca di risalire la china con quello che il leader chiama viaggio di ascolto sui territori. Venti appuntamenti in altrettante regioni, una sorta di congresso diffuso. E Calderoli sulla Repubblica attacca, tempo scaduto per la legge proporzionale, sui quesiti schifoso silenzio. Mesi fa ragionavo con il centro-sinistra su un nuovo sistema elettorale, poi sono spariti tutti. Il PD sta zitto sul referendum e così li boicotta. E Massimo Franco sul Corriere parla di strana mischia italiana che mette a rischio il governo. La virulenza e la ripetitività con le quali si attacca Palazzo Chigi hanno qualcosa di eccessivo. Evocano la spallata e specialmente per il Movimento 5 Stelle la ricerca di voti perduti, scrive. Intanto sul caso Camici il presidente della regione Lombardia Fontana viene prosciolto perché il fatto non sussiste. Non fu reato la donazione dell'azienda del cognato nel 2020. Riportano questa notizia il Corriere e tutti i quotidiani. Fontana, innocente, gogna, indecente, titola il giornale. Sinistra e Grillini lo avevano infangato durante la pandemia. Infine, virus, niente stop all'obbligo di mascherina in aereo da lunedì se il volo è in partenza dall'Italia. Come invece accade nella maggior parte dell'Unione Europea. Riportano la stampa e tutti i quotidiani. È tutto per questo appuntamento. Una buona giornata da Telpress Italia.